Punto nascita di Sulmona verso la chiusura. Si preannuncia una battaglia istituzionale tra Roma e l'Abruzzo. Non è violato il titolo quinto della Costituzione riguardo all'autonomia delle regioni. La responsabilità, dice il capogruppo del PD in regione, Silvio Paolucci, è tutta della giunta Marsilio, che dal 2019 non è riuscita ad adeguarsi ai criteri ministeriali. Questo del punto nascita di Sulmona è una vera e propria truffa elettorale di Marsilio e company. Una giunta lenta, ferma sulla questione punti nascita, la campagna elettorale, le strumentalizzazioni. Ricordo ancora Salvini e Lameloni, andare a fare comizi a Sulmona, ma poi hanno proposto questa deroga nel luglio del 2019, corredata da praticamente nulla, ovvero nessuna delle attività previste dal decreto per chiedere la deroga. Il parere del Ministero, del Comitato Nazionale per Corso Nascite, è di sette pagine. In ben sei di queste sette pagine si citano i cosiddetti dati che ha trasferito la Regione. È citato espressamente e nell'ultimo paragrafo delle sette pagine di parere c'è scritto la Regione, per titolo quinto, ha i suoi poteri programmatori, l'importante è che rispettino appunto le norme, il decreto dello Stato per quanto riguarda le deroghe dei punti nascita sotto a 500 parti, come hanno fatto altre Regioni. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Se l'ospedale di Sulmona dovesse allinearsi agli standard richiesti dal Ministero, il punto nascita potrebbe ancora essere salvato. Uno, l'H24, sette giorni su sette, non c'è. Il numero sufficiente di personale. C'è un numero preciso, previsto, il numero di ostetriche, di medici, di ginecologi, ovviamente tutto il numero di adeguamento del personale. Tra gli standard interni, questi ci sono perché inaugurammo noi il nuovo ospedale a Sulmona, quattro la rete Stam e la rete Sten, che fu introdotta da noi ma che deve essere migliorata in alcuni aspetti per quanto riguarda il percorso neonatale. Questi tre aspetti salverebbero, ovviamente correderebbero la deroga, la richiesta di deroga con gli standard di sicurezza ed è esattamente quello che non ha fatto Marsilio, il cui unico interesse era farci sopra campagna elettorale insieme ai suoi compari Salvini e Meloni.